Giornata storica a Bari, l'Assemblea Generale Europea delle Vie Francigene ha votato all'unanimità l'approvazione del tratto da Roma a Santa Maria di Leuca della Via Francigena. Per la prima volta nella sua storia, l'Assemblea Generale Europea delle Vie Francigene si è tenuta nel Sud Italia, a Bari. In questo contesto, l'Assemblea dei Soci si è espressa formalmente all'unanimità sull'estensione a Sud del percorso della Via Francigena, da Roma a Santa Maria di Leuca, in una sala pienissima di amministratori, sindaci e operatori di tutte le regioni interessate da questo percorso storico e culturale lungo 1800 km, che parte dalla Cattedrale di Canterbury e finisce a Santa Maria di Leuca. L'ambizione è quella di far diventare la Via Francigena un vettore di mobilità lenta che unisce tutta l'Italia e si proietta verso Gerusalemme attraverso il Mediterraneo.